Ciao bimbi! Uno dei grandi scrittori di racconti per l'infanzia si chiamava Hans Christian Andersen e un giorno ha scritto questo racconto. C'era una volta un vecchio contadino chiamato Barba Grigia che viveva in una fattoria insieme alla moglie. Questa non era una moglie come tutte le altre, infatti aveva una particolarità tutta sua, era sempre contenta di ciò che il marito faceva. Un giorno gli disse beh abbiamo due mucche, ce n'è una di troppo per noi che ormai siamo vecchi, cosa ne diresti di andare a venderne una al mercato? Il marito approvò e si avviò verso il mercato con la sua mucca. Ma la strada era lunga, il sole scottava, così quando vide passare un contadino che portava al mercato un grosso e grasso e tondo maiale, gli venne in mente che avrebbe potuto barattarlo con la sua mucca, avrebbe risparmiato la strada fino al mercato. Vuoi scambiare il tuo porco con la mia mucca? gli chiese. L'altro accettò di buon grado, ebbè la mucca è più rossa del maiale, no? E barba grigia si rimise in cammino. Ma il maiale era stanco anche lui, e non ci fu verso di farlo camminare, neppure a forza di calci e spintori. In quel mentre ecco passare un altro contadino che portava al mercato una vispa capretta. Ah, questa almeno non si farà tirare, pensò il bravuomo, esausto dalla lotta con il maiale, e barattò il suino con la capretta più piccolina. Ma le capre, si sa, sono capricciose, bizzarre, quella cominciò a puntare le corna, a saltellare qua e là, lasciando il poveretto senza fiato. Per fortuna si imbatté in un contadino carico di una bella oca bianca. Senti, me la daresti in cambio di questa capra? Detto fatto, e barba grigia si mise l'oca sotto il braccio. Quella però non voleva sapere di starne in quella posizione e sbatteva le ali, agitava le zampe, menava beccate a destra e a sinistra, tanto che alla prima fattoria barba grigia la parattò con un gallo. Quello aveva le zampe legate e lo si poteva portare senza inconvenienti, salvo il suo chiccherichii che forava i timpani. Oh, a barba grigia non parve vero di venderlo per uno scudo in una locanda dove entrò per riposarsi un po'. Lo scudo, una moneta, bastò giusto giusto per un buon pasto in affiato di birra. Beh, e ora come oserai presentarti a tua moglie? domandò un compare quando ebbe inteso la storia di tutti quei baratti. Oh, beh, sarà contentissima, rispose barba grigia. Vieni e vedrai. Eeeh, cosa scommetti? Quello che vuoi. Venti scudi? Vada per venti scudi. Giunti che furono alla fattoria, l'amico si nascose dietro la porta e stette a sentire. Oh, eccoti di ritorno, sia lodato il Dio, disse la donna. Com'è passato la giornata? Sei stato al mercato? No, faceva troppo caldo. Per via ho incontrato un tale che portava un porco al mercato e gli ho dato in cambio la mucca. Ma che buona idea! Così avremo del buon prosciutto per quest'inverno. Sì, ma non l'ho portato fin qui, eh? Strada facendo, ho cambiato parere. Ho visto una bella capretta e l'ho presa in cambio del maiale. Ma l'ho sempre detto che sei un uomo saggio. Ci darà latte, formaggio, forse un caprettino. Andiamo a metterla nella stalla. No, ma poi ho dato la capra in cambio di un'oca. Tu pensi sempre alle cose che mi fanno piacere. Prenderemo le piume per il nostro copriletto e poi mangeremo l'oca. Ma poi ho barattato l'oca con un gallo. Un gallo! Questo sì che è una buona idea. Ci servirà per svegliarci ed alzarci al mattino. No, neppure il gallo ti ho portato. Ti dirò, verso sera mi è venuta una fame da lupo. Eh, sono entrato in un'osteria. Ho mangiato e bevuto talmente che ho dovuto dare il gallo per pagare la cena. Dio sia lodato! Così staremo a letto finché ci piace. E dormiremo tranquilli senza che il gallo ci svegli. A me importa solo, lo sai, di saperti contento. La scommessa era vinta e il compare sborsò i venti scudi, più che bastanti, per una mucca. Bibi, si vede che questa storia l'ha scritta un uomo, perché questa storia mette in scena il desiderio segreto di ogni marito, una moglie che gli dà sempre ragione. Il potere dell'immaginazione. Ma poi soprattutto il racconto ci dice che quando due si vogliono bene e trovano il modo di intendersi, la loro casa è solida. Si vincono pure le scommesse, i venti scudi che ripagano. Cioè quando due trovano il modo di ascoltarsi e di stimarsi tra di loro, trovano il modo di essere ricompensati dalla vita. Mi sembra che, chissà, magari ci vuole suggerire anche questo, questo racconto, oltre ad essere un bel racconto. Allora chiediamo di saper riconoscere negli altri, non sempre subito, anzitutto, quello che ci sembra sbagliato, quello che diciamo, ma guarda questo idiota qui, ma c'aveva la mucca e poi è cominciato a rattare per robe, alla fine non è venuto a casa con niente. Chiediamo di essere invece di quelli che riconoscono le cose buone che fanno gli altri, le cose coraggiose che fanno, anche le cose creative, di essere di quelli che sono aperti a riconoscere che gli altri hanno anche delle intuizioni geniali, buone, e non essere sempre il solito di quelli che colpiscono con parole che feriscono. Chiediamo di avere uno sguardo aperto, limpido, magari la moglie esagera, però incamminiamoci in quella direzione e il mondo sarà un posto un po' migliore. Bimbi, buonanotte.